nuovi amici vicinissima tutti al mare vai vai dai che ce la fate su Suna e Nami e Gilda la nuova amichetta con la pallina la pallina arriva anche Iago tra le donne pronti Anni? arrivano tutti brava Gilda vieni vieni tutte e due tutte e due che bravi pronti che bello nuotare tutti c'è qualcuno che mi morsicchia la zona è quella di buttarmi sotto ah ok andiamo andiamo ciao 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 io ho mio papà che mi brucia proprio con una vongola uuuuuh ma quando vado in spiaggia con lui siamo sempre tutti e due con le mani in sott'acqua a ravanare ma le vedi tutte eh non so se cosa si parla è una dei plessi cane da che c'è? ma lo vedi proprio cattivo non si ferma mai ce n'è tante a posta cosa? cosa eh? è un gioco per tutti eh è qua è qua bravi bravo Iago tre rottweiler guardali guardali guarda le nutre guarda le nutre guarda le nutre guarda le nutre anche io manolo com'è? ecco qua ciao amore vieni vieni hai visto stagione? di vongole nel costume nel costume di andare adesso gli mettiamo da quattro no il gracchio sono abituata hai anche senso che le povero le hai spaccate le tue affusole non l'ho fatto apposta se l'ho fatto non l'ho fatto apposta c'ho i cani apposta scusa eh scusa eh scusa eh scusa la carta gratuitamente eh se mi procurano ogni giorno pranzo e cena dai adesso basta cinque minuti e mezzo di video direi grazie 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 grazie